Pugni. Corsi di formazione destinate al personale ospedaliero per riconoscere la violenza sulle donne anche in caso di mancate denunce dirette. Poi toccherà alle scuole dalla Spezia. Paolo Vertuccio. Gli strumenti contro la violenza ci sono e sono in mano a forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali. Ma non sempre la macchina dell'aiuto viene attivata per tempo. Denunciare o segnalare può essere difficile non solo per le vittime, ma anche per chi sarebbe in grado di cogliere i segnali di una situazione potenzialmente critica. Per questo la prefettura della Spezia sta per dare il via a una serie di incontri di formazione per il personale sanitario, soprattutto del pronto soccorso. L'idea è quella di creare delle sentinelle sul territorio in modo da rilevare i segni di violenza e in qualche modo accompagnare la donna verso un percorso di denuncia e di rinserimento. Rendere tutti gli operatori consapevoli del funzionamento delle reti e degli enti che agiscono per la tutela delle vittime di violenza, per superare i timori e non lasciar cadere nel vuoto gli indizi di una possibile situazione di maltrattamento. Una serie di lezioni unica nel suo genere, che dovrebbe poi essere replicata anche con gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, altro luogo dove si possono cogliere segnali importanti da non trascurare. Qui a Spezia, particolarmente ricca, le iniziative sono tante, ma il fatto che continuino a ripetersi episodi di violenza dimostra che non si fa abbastanza. La serie di incontri che saranno tenuti da funzionari e dirigenti delle forze dell'ordine e dei servizi sociali della procura va ad affiancare altri protocolli attivi sempre contro i maltrattamenti domestici. Lo scambio di dati e segnalazioni tra pronto soccorso e procura e il progetto Zeus della Questura per il recupero degli uomini che commettono violenza. Parliamo di lavoro perché è in corso.